Terremoto in Turchia, tweet vergognosi in Saniolo il Galatasaray. Istanbul, Turchia, un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito nella notte il sud-ext della Turchia e il nord della Siria. I primi dati parlano di oltre 700 morti, e oltre 2000 feriti nelle province turche interessate dal sisma. Il bilancio è destinato a salire. I tweet vergognosi nonostante il dramma che sta vivendo in questo momento il popolo turco. C'è qualcuno che sui social si è divertito a legare il terremoto con il probabile arrivo del romanista Nicolo Saniolo al Galatasaray. Appena apparsa la notizia della shagure in Turchia, sono apparsi dei tweet vergognosi riferiti al trasferimento del giocatore alla formazione giallorossa di Istanbul. Virgola.